Due assalti a portavalore in meno di 24 ore nel Barese. Dopo quello di ieri pomeriggio sulla tangenziale di Bari allo svincolo per l'autostrada A14, in cui un commando di quattro persone ha bloccato un mezzo che trasportava 53 mila euro e sequestrato l'autista rilasciato a Cassano, un secondo colpo da circa un milione di euro è stato messo a segno questa mattina alle 7.30. I malviventi sono entrati in azione sulla statale 16 all'uscita dello svincolo Monopoli Nord, all'altezza del cavalcavia del centro turistico Cala Corvino. Tutto studiato nei minimi dettagli. In otto armati di pistole hanno agito utilizzando tre mezzi rubati. Obiettivo un furgone portavalori dell'Istituto di Vigilanza Ivri, carico di soldi. I rapinatori hanno messo di traverso sulla strada un'auto articolato e un camion per far rallentare il portavalori. Poi uno dei malviventi a bordo di un'auto, una Opel Astra, ha speronato il furgone. Dalla dinamica ricostruita finora dai carabinieri, tre guardie giurate sono state costrette a scendere dal mezzo. A quel punto uno dei banditi ha colpito alla testa la guardia giurata al volante del blindato con il calcio della pistola. Utilizzando la fiamma ossidrica, gli otto banditi hanno aperto la cassaforte interna del blindato impossessandosi del denaro e sono fuggiti a piedi per le campagne in direzione Brindisi, dove ad attenderli c'erano probabilmente dei complici a bordo di altre auto. A supportare i carabinieri nelle indagini, anche i colleghi del nucleo elicotteri con ricondizioni sulle zone di Mitrofe all'assalto.